Salve ragazzi, benvenuti sull'opinione di Luce Shoe e alla ribatta vi porterò i grandi nomi Massoni, Montesi, Tommy Hicks, Cezanelli Forever e Fred mi ha mandato un bacio, grandissimo amore mio Baffardello Bordo cosa dire, Mister Minklista cosa dire, come fare sesso è il video che vi parla di loro Ciao ragazzi, benvenuti sull'opinione di Luce Shoe